tutto pronto si apro le gabbie partiti cavalli del premio brigadier gerard i tre anni che si confrontano sui duemila metri subito il favorito che prova a forzare dopo la partenza e quindi enigma dei griff si ritrova in vantaggio nei confronti di certaldo terza posizione occupata da cebarrai con la giuba completamente marrone poi in terza corsia galoppa golden ass con la giuba gialla al cui esterno a sua volta c'è the blades la seconda linea completata da mua rare dream poi le bagarre e self praise che chiude il drappello degli otto partecipanti si procede così senza forzare la mano da parte di enigma dei griff e christian de muro che sta portando a spasso la compagnia in seconda posizione in questo momento troviamo certaldo a precedere cebarrai ed ancora the blades golden ass self praise le bagarre e mua rare dream a completare il drappello dei partecipanti metà curva affrontata senza variazione di rilievo e senza che la corsa abbia subito alcun tipo di scossa c'è sempre enigma dei griff davanti con certaldo in seconda posizione c'è barrai in terza the blades golden ass mua rare dream self praise e le bagarre si comincia a far sul serio perché enigma dei griff ha dato una prima scossa alla corsa con gli altri che rincorrono in particolare certaldo che non lo perde di vista di fuori stessa cosa fa c'è barrai di dentro poi golden ass che cerca di filtrare tra i cavalli dal centro la pista ci sono the blades mua rare dream le bagarre e self praise intersezione delle piste superate abbondantemente con enigma dei griff che per ora ha anestetizzato tutti gli attacchi ci prova certaldo golden ass che ne segue la scia the blades al centro della pista e tutti gli altri che però sono lontanissimi a 300 dal traguardo enigma dei griff prema sull'acceleratore e va in continua percussione enigma dei griff che gestisce il vantaggio in bello stile e sì e qui si va per una strada tutta dedicata verso il derby al secondo posto golden assi al terzo certaldo la primavera dunque ci ha restituito un potenziale protagonista in enigma dei griff che dopo l'assolo autunnale riesce a vincere anche il rientro cristian de muro in sella bentornato a roma il training è quello della stefano botti tarf i colori di francesco loi tre al primo posto quota definitiva di 2 75 leggera il leggero ribasso rispetto alla precedente proiezione per il secondo posto chiaramente abbiamo visto golden ass anche lui cresciuto dopo l'esordio e terzo certaldo qui si guarda alle spalle il suo interprete vince in bello stile enigma dei griff seconda vittoria in carriera per il figlio di full drago tre al primo posto quattro al secondo due al terzo da capanelle per la seconda è tutto grazie a tutti